YAT, acronimo di Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica. In Veneto sono 82 e cambiano volto. Il restyling ha visto quello di Belluno essere uno degli ultimi ad essere coinvolto, ma il primo ad essere inaugurato. È importante inaugurare un nuovo ufficio YAT, soprattutto perché gli uffici YAT nuovi del Veneto sono tutti coordinati tra loro. Questo è importante, non soltanto dal punto di vista estetico, nei layout, ma soprattutto nella comunicazione che avviene nell'interconnessione tra i vari uffici di accoglienza turistici di tutto il Veneto, il che significa che oggi a Belluno noi potremo trovare informazioni non solo del territorio bellunese, ma anche di qualsiasi altro luogo della regione Veneto. Quindi un turista, quando entra in un'OIAT di Belluno, piuttosto che di Verona o di Venezia, è in grado di avere informazioni di tutto il Veneto. Ora da ciascuno di essi si potrà accedere ad un'informazione turistica che va dalla montagna al mare, dal lago di Garda alle città d'arte, dalle colline ai parchi. YAT, a cui si aggiungono 199 infopoint collocati nelle località più piccole e che saranno poi integrati da delle porte dell'accoglienza collocate in luoghi strategici, come gli aeroporti presenti in regione, piuttosto che le stazioni ferroviarie di Venezia e Verona. Dobbiamo investire sul turismo, che è una delle risorse fondamentali per la nostra economia e sicuramente iniziative come questa non possono che aiutare il turista ad avvicinarci alle città, ad avere informazioni, a creare quelli che sono i presupposti perché possa trascorrere delle giornate di vacanza nel miglior modo possibile nei nostri territori.